La Juventus vince la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri di Allegri si impongono per 2-1 sui tedeschi delle Borussia Dortmund. Vantaggio bianconero con Tevez. Passano pochi minuti per l'1-1 con Reus su disattenzione bianconera. Poco prima della fine del primo tempo, Morata siglerà il gol vittoria. Il ritorno fa due settimane in terra tedesca. Per la Serie A si è completato il quadro della quinta giornata di ritorno con il derby della Lanterna San Vdorio Genoa finito 1-1 con le firme di Falke per i genuani ed Eder per i blucicchiati. Intanto nuovo colpo di scena per la crisi del Parma. Non ci sarà l'incontro fra il sindaco Pizzarotti e il presunto presidente. I giocatori pagheranno di tasca propria la trasferta di Genova.